Grazie a tutti. Grazie a tutti. Elio Fiorucci è l'uomo che ha distrutto la moda 15 anni fa circa, verso il 1965, ha distrutto la moda aulica, la moda costosa possiamo anche dire e ne ha inventato un'altra capendo che i tempi stavano cambiando. Voi potete chiamarlo, Fiorucci come sapete è il re del blue jeans tra le altre cose, potete chiamarlo, il numero è ancora una volta ve lo dico. 34 973, 06 il prefisso, 02 il prefisso per chi chiama da fuori Milano, vi ringraziamo e ripassiamo la linea a Roma. Credo che la possiate ripigliare, si può già andare... 34 972, qui c'è 73 in effetti, rimandiamo le sovraimpressioni che c'è un problema di numeri. Nel frattempo abbiamo già una prima chiamata... Nel frattempo abbiamo già un problema per l'ansiede, è facile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.